Restano al palo i consumi in provincia di Lucca, con l'unica novità che il piccolo commercio perde un po' meno rispetto alla media e grande distribuzione. Lo dicono i dati dell'andamento del commercio al dettaglio a cura di Union Camera e Toscana per il secondo trimestre 2013. Il calo delle vendite è stato del 5% leggermente superiore alla media toscana che si attesta al 4,8% e leggermente inferiore allo stesso periodo dello scorso anno quando era arrivata al meno 5,9%. Tra i settori di attività si registra una contrazione del 4,1% del commercio alimentare e del 5,2% per il settore non alimentare, con punte del 5,3% per l'abbigliamento e accessori, dell'8,2% per i prodotti della casa e del 4,2% per gli altri prodotti non alimentari. Un piccolissimo spiraglio per il piccolo commercio che per la prima volta da diversi anni presenta un saldo negativo e inferiore a quello della media e grande distribuzione, attestandosi a un meno 4,2% contro il 7,1% della media distribuzione e il 5,5% della grande distribuzione. Ademaro Cordoni, presidente provinciale di Confcommercio, commenta La mancanza di potere di acquisto si traduce in un calo dei consumi, la nostra ricetta è molto semplice, ridurre la pressione fiscale e le trattenute nelle buste paga dei lavoratori. Da qua occorre ripartire per un rilancio dei consumi stessi, così come, dice ancora Cordoni, dobbiamo insistere sui centri commerciali naturali e centri storici che forse riescono ad intercettare meglio il flusso turistico. La crisi dei consumi, commenta il presidente di Confesercenti Alessio Lucarotti, non accenna a fermarsi. Il fatto che il calo dei piccoli esercizi sia minore non ci tranquillizza. È il segno, a nostro avviso, che la contrazione della spesa del consumatore è sempre più strutturale e pervasiva e che senza un cambio di rotta a livello di restituzione di capacità di acquisto nelle tasche dei consumatori sarà difficile arginare il declino.